Ciao Jacopo, buonasera. Quando entri tu mi manca il pubblico, perché vorrei sempre l'applauso e la ola. Vai, stasera sorprendici, come al solito. Questa settimana sono partito in una riflessione economico-artistica, Massimo. Perché noi abbiamo un po' il mito dell'artista romantico, quello che dipinge in soffitta, incompreso. Anche tu ci vuoi parlare di Vildenaro stasera. Per questa sera ho fatto proprio il conti in tasca agli artisti del passato, perché io mi sono chiesto, ma quanti e quali artisti riuscivano invece a vivere guadagnando moltissimi soldi? Quanti di loro facevano fortuna da vivi? Non dopo, come Van Gogh, che non riusciva a vendere un quadro in vita e poi dopo è diventato una delle superstar dell'arte. E ho trovato i nostri soliti scoop del sabato sera, Massimo. Ad esempio Michelangelo. Michelangelo guadagnava moltissimo in vita. Qui abbiamo un suo ritratto postumo del Seicento, anche grazie alla Cappella Sistina che gli ha fatto guadagnare un sacco di soldi. aveva moltissimi terreni, un deposito all'ospedale di Santa Maria Nuova, un conto in banca molto ben fornito a Roma, amica Bruscolini, Massimo. Pensate che si dice che alla sua morte lasciò un patrimonio di circa 50.000 fiorini. Adesso cosa sarebbe? Provate a indovinare voi, l'equivalente odierno è più o meno di 50.000... 10 milioni di euro. No, addirittura di più. Assertivo. Alzate, alzate. 18. No, ancora... Perché andiamo a 50. 50, esatto. 50, lo sapevi. 57 milioni di euro. 57 milioni di euro. Più o meno, fiorino più, fiorino meno. Poi non è che si può fare il calcolo... Poi, neanche bisogna chiamare il decoratore, nel senso che poi a casa faceva... Esatto, risparmiava sui pittori, eccetera. Si dice però che fosse anche molto taccagno, in realtà, oltre a essere milionario. Ad esempio, alla sua morte, furono trovati migliaia di fiorini in un baule che teneva nascosto sotto al letto, un po' timoroso. Pure il suo guardaroba consisteva in soltanto 24 camice umili, di cui, tra l'altro, 5 tenute nuove, forse per l'ospedale, come dice nonna Lina. E nessun soldo, nessun libro, nessun gioiello. Insomma, era una persona a cui sicuramente non piaceva sperperare questo Michelangelo. Un suo artista contemporaneo, Andrea del Sarto, è un altro dossier molto interessante dal punto di vista... Allora, intanto, si capisce già da questo autoritratto che aveva parecchi pensieri che gli ronzavano per la testa. È un po' inquieto, eh, questo sguardo. Allora, dovete sapere che Andrea del Sarto, per molti anni, è stato un personaggio umile, tranquillo, non chiedeva grosse somme per le sue opere. Era benestante, ma non ricchissimo. Finché, finché... Guarda, finché, io purtroppo questa sera un po' la so, finché è precipitato in quello che oggi si chiama l'amore tossico. Cioè, ha trovato la donna sbagliata della sua vita. Donna sbagliata. Ha proprio tanto sbagliata. Sbagliatissima. Questa Lucrezia di bacio del fede gli ha proprio rovinato la vita. Perché era una che ha iniziato a dire al marito e ma secondo me tu ti sottovaluti, e ma dovresti chiedere molto di più, e guarda che borsette brutte che ho, e porto solo abiti usati, e anche mia mamma ha bisogno del guardaroba. Insomma, per accontentare questa donna, Andrea del Sarto partì in Francia, alla corte di re Francesco I, che era un grandissimo mecenate, colui al quale Leonardo aveva venduto la gioconda, per intenderci, e effettivamente divenne ricchissimo. Però questa Lucrezia tossica iniziava da Firenze a mandargli delle lettere, dicendo, mi manchi un sacco, no, ma dovresti tornare a casa, non vedo l'ora di rivederti. Ma in realtà, a lei non mancava Andrea del Sarto, mancavano i suoi soldi. Infatti, una volta rientrato il marito, lei sperperò tutto e costrinse Andrea del Sarto a vivere in un'estrema povertà e indigenza, tanto che Vasari lo definì un infimo artista, non aveva più un soldo, però ha continuato, a proposito di amore tossico, a amarla ciecamente, tanto che poi le chiese di posare per la Madonna delle Arpie, che forse è l'opera più famosa di Andrea del Sarto. Eccola qua. La Madonna è effettivamente bellissima, però ai suoi piedi ci sono queste due arpie mostruose che qui secondo me... Tu dici era un messaggio. Secondo me mandava una frecciatina un po' alla moglie e alla suocera, bisognerebbe approfondire. Ma vediamo anche qualche artista contemporaneo, perché anche qui abbiamo delle storie scoppiettanti. Ad esempio, sicuramente molto legato ai soldi era Salvador Dalì, che Salvador Dalì era proprio uno spendaccione. Qui abbiamo un suo scatto con un Oslo, che è un felino americano, si scrive Ocelot, perché si vede dall'occio, Massimo, questa è una battuta per i francofoni e per i piacentini. Ed era... Lo stiamo trasformando in un mosso televisivo. Mi sto allargando. Prego. Ed era così spendaccione che si regalò un anno un castello, un castello medievale a Pubol in Spagna, che tra l'altro poi ha arredato un po', diciamo, alla Casa Monica, perché guardate un po' il suo salotto. Tra l'altro ritroviamo i felini, perché erano appassionati del genere, con trono dipinto da Salvador Dalì, tra l'altro, un paesaggio surrealista, vedete sullo schienale. Ed era così ossessionato dai soldi che il poeta surrealista André Breton, con cui Dalì era un po' in rivalità, litigavano spesso, cognò l'anagramma Avida Dollars, Salvador Dalì, Avida Dollars, per darvi un'idea del personaggio. Avido e avaro era anche un suo contemporaneo, Pablo Picasso. No, mi fa cadere anche il mito. Sì, è un mito che crolla, perché c'è un aneddoto, abbiamo questo scatto di lui al ristorante, perché cosa è successo una sera in un ristorante piacentino dopo una cena? C'è Picasso, sa... Piacentino, ho detto piacentino. Piacentino? No, parigino, parigino. Non mangiava... Anche a Piacente ci sono negli ultimi ristoranti. Non mangiava gnocchi fritti, coppa, ma foie gras, ostriche. Insomma, una cena ricchissima. E infatti, mentre Picasso era lì a digerire la tavola, arrivò un conto salatissimo. Allora cosa fa Picasso? Picasso offre al cameriere un disegno che fa all'improvviso su un tovagliolo chiedendo al cameriere di consegnarlo al direttore del ristorante come forma di pagamento. Dopo qualche istante torna al cameriere e dice allora il direttore accetta il vostro regalo, però le chiede gentilmente di fare anche una firma autografa. E cosa fa Picasso? Dice, ma io devo pagare il conto, mica comprarvi tutto il ristorante. Un po' borriosetto. Non so dirvi esattamente come sia andata a finire, però avranno patteggiato. Forse voleva la firma sull'assegno per pagare il conto del ristoratore. Sì, anziché il tovagliolo griffato.